coronavirus muore un'altra nonnina l'ultima vittima è una novantunenne di Forli del Sagno ospite della casa di riposo di Sessano del Molise ieri sera non ce l'ha fatto un novantenne di Campobasso e ancora 72 positivi 8 ricoveri in malattie infettive l'appello dal reparto di terapia intensiva del Cardarelli quando si hanno sintomi la prognosi del covid è severa serve grande attenzione per avere meno positivi e meno ricoveri il responsabile Romeo Flocco spiega perché ci sono tanti decessi con il centro covid all'Arino si sarebbe evitato l'attuale caos l'affondo del commissario ad acta Angelo Giustini al vetriolo la replica del presidente della regione Toma critica se stesso ha fallito spero Roma capisca che è ora di cambiare il turismo è il settore più colpito dalla crisi le prospettive per il futuro sono tutt'altro che rose e gli aiuti governativi non ci sono le perdite nel frattempo superano l'80 per cento perché la gente giocoforza rinuncia a viaggiare al via molise art polo tecnologico del gemelli molise per la lotta al cancro nuovo centro di radioterapia avanzata bregantini avete reso questo luogo una casa macchinari di ultima generazione affiancano un progetto artistico per accompagnare il paziente nel percorso di cura e fino allo sport il calcio di sere di il recupero tra alba longa e campo basso in programma domenica prossima è stato rinviato a data da destinarsi calciatori intanto attendono l'esito dei tamponi di controllo olimpia agnonese mister seiling a jesi si complimenta con i suoi per il pari ottenuto in casa della vastesi buon pomeriggio ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di campo basso in apertura l'avete sentito dai nostri titoli c'è un aggiornamento sul corona virus un'altra vittima muore un'altra nonnina la l'ultima vittima è una 91enne di forli del sagno che era ospite della casa di riposo di sessano del molise ieri sera invece non ce l'ha fatta un novantenne di campo basso ancora 72 positivi a otto ricoveri in malattie infettive tutti particolari nel servizio di valentina charla se ne va un'altra nonnina del molise aveva 91 anni era di forli del sannio e si trovava nella casa di riposo di sessano ancora un anziano che scompare a causa del covid ed è la 97esima vittima dall'inizio della pandemia ieri era aspirato nel reparto di malattie infettive un novantenne di campo basso ieri nella giornata in cui l'italia ha raggiunto la drammatica cifra delle 50.000 vittime del coronavirus proprio da malattie infettive sono state dimesse tre persone e ricoverate altre otto quindi complessivamente ci sono 61 pazienti 10 in terapia intensiva reparto che da due giorni non registra nuovi degenti dall'analisi di 616 tamponi 345 in meno rispetto al giorno precedente sono risultati altri 72 casi 10 a isernia 9 a campo basso 5 a cerce maggiore e fornelli 4 a civita nuova del sannio e a sant'angelo del pesco 3 a termoli 2 a boiano a ferrazzano a lungano a matrice a miranda a pietra abbondante a pietracatella e a venafro infine un caso a busso campomarino carpinone castel del giudice gallo matese macchia valfortore montagano montenero di bisaccia monteroduni oratino pescolanciano riccia santa gapito sessano trivento e vinchiaturo a livello nazionale si è registrato un calo di 9.000 casi 22.930 con 148.000 tamponi e sono 2.509 gli attualmente positivi in molise nelle ultime ore risultano guarite 21 persone ed ora l'appello dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale cardarelli di campo basso quando si hanno sintomi la prognosi del covid è severa serve grande attenzione per avere meno positivi e meno recovery il responsabile di rianimazione romeo flocco spiega perché ci sono tanti decessi sentite sono le 19 e 30 ed il turno è quasi finito 12 ore in corsia fuori è buio non ci si può sbagliare entri che c'è la luce esci che è quasi ora di andare a dormire sugli indumenti i segni della fatica del lavoro per salvare vite umane nel reparto di terapia intensiva del cardarelli ci sono solo sette anestesisti sette eroi stremati ma determinati a non mollare il reparto è quasi sold out e la sensazione è che i giorni siano tutti uguali una continua corsa contro il tempo per evitare che il numero dei decessi aumenti c'è un problema di risorse umane il numero degli anestesisti e questo è già noto da tempo nel nostro ospedale è molto ridotto rispetto alle necessità e rispetto al fabbisogno rispetto alle prestazioni che eroghiamo tanti troppi morti a dimostrazione che la malattia è grave ma perché tanti decessi soprattutto in malattie infettive questa la risposta del responsabile della rianimazione il dottore romeo flocco è una patologia seria è vero che la mortalità tra tutti i positivi e bassa ma se si va a considerare la mortalità tra i pazienti sintomatici che hanno bisogno del ricovero ospedaliero e della terapia con ossigeno e i farmaci previsti la mortalità diventa importante questa è una malattia molto grave che quando da i sintomi quando richiede un ricovero in ospedale purtroppo ha una prognosi difficile ha una prognosi severa e infatti la mortalità è importante e corrisponde ai dati della letteratura internazionale la rianimazione del cardarelli è solo per i pazienti covid flocco chiarisce anche questo aspetto e spiega qual è il protocollo che viene seguito deve essere stabilizzato nel nostro ospedale se il paziente si trova nel nostro ospedale deve essere stabilizzato da un punto di vista intensivistico dopodiché deve essere ricoverato nella nell'ambiente più idoneo cioè deve essere trasferito nella rianimazione della struttura circostante disponibile per allentare la pressione sul reparto covid del cardarelli l'unico presente in molise è necessario diminuire gli accessi più comportamenti responsabili meno positivi meno ricoveri non stiamo in un momento dove si può scherzare con questa grande malattia e dobbiamo tenere alta l'attenzione di tutti quanti ma tutti indistintamente dai più grandi ai più piccoli quindi la cosa principale la di il distanziamento le mascherine l'igienizzazione tutto ciò che si ripete da marzo a questa parte non bisogna sottovalutare niente ma proprio passare i numeri perché così non si può andare avanti così non si può andare avanti perché l'emergenza c'è ed è reale e purtroppo noi non siamo tantissimi che ci diamo da fare e i numeri aumentano sempre di più per cui noi siamo comunque volenterosi nel volere aiutare tutti ma ci dovete aiutare anche voi a stare attenti questa è la cosa più importante tra l'altro a partita iva si sono qui da marzo sono qui da marzo e speriamo di poter fare il possibile per mandar via tutti i pazienti che sono qui presenti e non vederne altri nuovi perché veramente è drammatica come situazione sono comunque abbastanza spronata e incentivata anche dai miei colleghi che sono più amanti di me con l'età a svolgere questa professione perché comunque so che sto dando una grande mano soprattutto la mia città che è piccolina però appunto basta un numero minimo di malati che diciamo la sanità viene aggravata e quindi non so mi sento un sopporto e sono veramente orgogliosa di far parte di questa troupe e della rianimazione soprattutto volano gli stracci tra il commissario ad acta alla sanità molisana angelo giustini ed il presidente della regione donato toma con il centro covid a larino si sarebbe evitato tutto questo caos la fondo del commissario giustini che ripercorre le tappe di quanto accaduto in questi mesi ribadisce la validità del suo piano che aveva avuto l'ok l'ok di 118 sindaci del consiglio regionale e allora sentiamo l'affondo di giustini poi subito dopo rientriamo in studio e sentiamo la replica di toma intanto giustini con valentina charlante il vietri centro covid avrebbe evitato il caos attuale che va a danno dei molisani parole di angelo giustini il generale della finanza commissario ad acta della sanità del molise da due anni esatti dopo essere stato tirato in ballo dal governatore toma torna a parlare ci va giù pesante ribadendo la validità di quel piano il suo che prevedeva a larino l'ospedale destinato ai pazienti affetti da coronavirus e attaccando frontalmente la gestione dell'emergenza ad opera di regione asrem come noto l'idea di giustini era quella di allestire all'ospedale di larino un centro di malattie infettive specializzato covid sfruttando gli ampi spazi di una struttura quasi dismessa se non fosse per la rsa il commissario presentò quel piano in consiglio regionale chiarì che i soldi sarebbero stati garantiti dal ministero e che gli interventi da apportare non sarebbero stati impossibili il progetto non solo incasso all'ok del consiglio ma divenne oggetto di una vera e propria battaglia che vide schierarsi con giustini ben 118 sindaci del molise tuttavia nulla da fare florenzano e toma esattamente come ora hanno sempre sostenuto l'impraticabilità di quel piano tanto da inviare a roma una loro proposta firmata anche dalla subcommissaria idagrossi cioè quella che prevede la famosa torre del cardarelli riservata ai pazienti covid un corto circuito interno alla struttura commissariale e una divergenza di vedute con la regione che ha generato tutta una serie di conseguenze tra cui l'invio appunto di due relazioni a roma è stato presentato da me un piano esclusivo per l'apertura dell'ex ospedale di larino quale centro covid dice giustini invece inspiegabilmente ne è stato inviato un altro diverso e senza la mia firma così giustini ora sottolinea come la sua soluzione all'emergenza non avrebbe determinato i tanti disagi lamentati da cittadini e pazienti inoltre ribadisce che il piano covid ufficiale è di esclusiva competenza del commissario e in questo il caso calabria ha fatto scuola per alcuni ma cosa è avvenuto dopo l'invio di due progetti al ministero anche questa è storia ma il generale ricorda come sono andate le cose ovvero che dopo la decisione del ministero di non optare per il centro covid dell'arino ha dovuto secondo le linee di indirizzo riprogrammare un nuovo piano in brevissimo tempo che escludeva il vietri toma in questi giorni ha spiegato che il no da roma è arrivato per i famosi parametri del balduzzi decreto che secondo michele iorio anche lui tornato a tonare contro toma in queste ore non c'entra nulla e non pregiudica le decisioni da assumere con una pandemia in corso quindi concludendo la torre al cardarelli per cui è arrivato l'ok da roma vede tuttora il dissenso del commissario cioè di colui che è l'unica figura deputata a presentare il piano per l'emergenza un piano modificato sì ma che non sarà realtà prima di marzo e ora ascoltiamo la replica del presidente della regione donato toma che replica a muso duro al commissario angelo giustini dice ha fallito critica se stesso definisce caotica l'emergenza che lui stesso avrebbe dovuto governare poi dice spero che a roma si siano resi conto di quale sia la situazione e proprio da roma toma attende un provvedimento urgente sentite beh io dico che il commissario definisce caotica una situazione che dovrebbe gestire lui per cui è come se si stesse guardando allo specchio in questo momento spero che roma abbia ricevuto questo comunicato e e faccia i suoi passi noi siamo qui cosa significa fare i suoi passi presidente andare gli ispettori ma non c'è bisogno di ispettori la situazione è abbastanza chiara c'è un commissariamento che non funziona i commissariamenti hanno fatto il loro tempo bisogna cambiare 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 velocemente in questo momento io non mi posso fermare a discutere con un commissario a discutere con tutti gli attori della politica locale c'è emergenza la discussione inutile ci potrebbe far perdere tempo prezioso e michele iorio critica ancora la gestione delle emergenze spiega che la situazione attuale vede i medici costretti a ricoverare meno pazienti a causa dell'insufficienza dei posti letto questa organizzazione mette in crisi l'unico idea di secondo livello afferma l'ex presidente cioè l'unico ospedale molisano che assicura funzioni di più alta qualificazione legate all'emergenza e alle patologie tempo dipendenti ed ora andiamo a montaquila perché il sindaco marciano ricci tiene a precisare che il riferimento ai bollettini emanati negli ultimi giorni che dimostrano un calo dei contagi nel nostro territorio si chiarisce che il dato purtroppo non è completo in quanto mancano i tamponi processati da strutture private ebbene mettendo insieme i dati i positivi comunicati da Asrem test molecolari sono 88 i positivi accertati presso laboratori privati 12 finora ci sono 7 guariti aggiunge Ricci il totale dei deceduti ad oggi è di 3 persone e Ricci ribadisce ancora una volta che si comprendono i disagi legati alla chiusura della scuola ma si evidenzia che la situazione sul nostro territorio è tale da non lasciare altra soluzione le scuole chiosa saranno riaperte solo quando si sarà si sarà in presenza di un calo dei contagi continuiamo a parlare dell'emergenza covid 19 perché a termine è stata rinnovata l'intesa tra il comune e le associazioni di volontariato per il servizio di ossigeno terapia a domicilio consegna di spesa alimentare e pronto farmaco si possono contattare le associazioni state vedendo i numeri che appunto si possono contattare sono quelli della misericordia ma anche del 612 del valtrigno molise insomma della croce rossa italiana dell'associazione di volontariato l'arca tutti i numeri appunto delle associazioni che hanno raggiunto una nuova intesa con il comune di termoli una nuova intesa per fronteggiare l'emergenza covid 19 ed il turismo è forse il settore più colpito dalla crisi le prospettive per il futuro sono tutt'altro che rose e gli aiuti governativi non ci sono le perdite nel fatturato superano l'ottanta per cento perché la gente giocoforza ha rinunciato a viaggiare sentite Nicola De Santis Tra i settori più colpiti dalla crisi sanitaria e divenuta poi crisi economica c'è senza dubbio il turismo con le frontiere chiuse, la paura della gente di spostarsi, la mancanza di liquidità la maggior parte delle persone ha rinunciato praticamente a viaggiare e le prospettive per le festività natalizie non sono certamente positive ma diciamo che le vacanze per le festività in effetti non sono state proprio programmate perché non c'è stata proprio la possibilità considerando che i viaggi sono fermi ormai da marzo le frontiere non si sono mai riaperte poi man mano che siamo andati avanti la situazione è andata via via peggiorando per cui non c'è stata proprio la possibilità di arrivare a prenotare per le festività Per alcune agenzie di viaggio la riduzione del fatturato è stata superiore all'ottanta per cento la parentesi estiva non è servita certamente a ristorare il settore delle perdite subite ed appare oggettivamente difficile intravedere schiarite all'orizzonte In questo periodo le perdite siamo sull'ottanta per cento cioè le agenzie stanno su meno ottanta per cento quel che si muove è qualche viaggio di lavoro insomma qualche viaggio aziendale che le persone che lavorano viaggiano e solo questo è quello che si muove Quest'estate si è potuto andare solo in Italia quei pochissimi inizio estate che sono andati in Grecia ma sono stati pochissimi e poi si sono visti i risultati ma diciamo luglio agosto la gente che si è mossa è andata in Italia Puglia, Calabria, Sardegna questi sono stati gli spostamenti dell'estate con percentuali chiaramente nettamente inferiori a quelle degli altri anni ma comunque l'Italia si è abbastanza riempita possiamo dire Il settore del turismo non è stato in alcun modo ristorato per le perdite subite al termine della pandemia saranno molti gli imprenditori costretti a modificare il core business o a ridurre considerevolmente il personale Attualmente ancora insomma non è arrivato nulla però abbiamo buone aspettative quindi noi aspettiamo con ansia speriamo che possa arrivarci qualche contributo Anche con la regione Molise stiamo cercando insomma di avanzare delle proposte insieme alle altre agenzie di viaggio anche appunto non solo di Serna ma anche di Campobasso anche lì purtroppo c'è da attendere cioè diciamo che al giorno d'oggi non abbiamo delle notizie ancora concrete degli uti concreti ancora non ci sono state ma siamo fiduciosi che possiamo di poter ottenere qualcosa Il bonus vacanze si è rivelato un flop sia per i timori da parte dell'utenza che nella maggior parte dei casi ha rinunciato a viaggiare sia perché gli operatori del settore hanno preferito non aderire alla misura offerta dal governo Il bonus vacanze è stato un flop perché noi semplici intermediari dobbiamo cercare comunque chi aderiva al bonus vacanza e di fatto su 20 alberghi magari ce n'era uno ogni 20 perché giustamente anche gli albergatori si preoccupavano di come avrebbero avuto poi il rimborso spese quindi alla fin fine noi siamo riusciti a farne sfruttare due o tre non più di tanto perché non erano molti quelli che avevano aderito a questa cosa non una cosa che è servita insomma potevano destinare ad altro Cambiamo argomento 22 comuni del Molise sono già vendibili nel senso che i residenti possono già chiedere l'attivazione della banda ultralarga ai gestori di telefonia ci spiega tutto Rita Iacobucci sentite Fondamentale per lo sviluppo delle imprese per combattere l'isolamento delle aree interne oltre che passaggio epocale per dare a tutti opportunità concrete di restare in Molise il punto sui lavori per la banda ultralarga in una videoconferenza stampa col presidente della regione Donato Toma il consigliere delegato per la digitalizzazione Andrea Di Lucente e i rappresentanti dell'azienda Open Fiber 22 comuni cosiddetti vendibili come dice Open Fiber significa che sono utilizzabili la banda larga è utilizzabile siamo per la fine dell'anno aggiungeremo altri comuni ancora nel 2021 e nel 2022 completeremo tutto il territorio molisano aggiungeremo anche quelle aree cosiddette bianche e bianchissime dove è difficile collegarsi in internet ed è difficile trasmettere e comunicare attraverso la banda larga Toma e Di Lucente hanno evidenziato anche come le infrastrutture digitali siano importanti nella gestione per esempio dei servizi sanitari il governatore ha fatto l'esempio della rete di Telestroke portata a compimento da qualche mese un alleato formidabile per la cura dell'ictus punto qualificante dell'assistenza pubblica mulisana che mette in condizione ora tutti gli ospedali di somministrare il trattamento salvavita della trombolisi con la rete in fibra ottica realizzata da Open Fiber nell'ambito dei bandi infratelle si può navigare fino a un gigabit al secondo per la società sono intervenuti alla videoconferenza il regional manager per Abruzzo e Molise Marco Pasini e Nadin Chirizzi degli affari istituzionali l'infrastruttura è di proprietà pubblica sarà gestita in concessione per 20 anni dall'azienda che ne curerà anche la manutenzione portare la banda ultralarga in una regione come il Molise a lungo privata di uno strumento ormai indispensabile per la vita quotidiana e lavorativa ha detto Pasini è per noi un motivo di orgoglio specialmente in un periodo come quello che stiamo affrontando D'ora la cronaca un uomo di circa 80 anni è ricoverato al neuromed in condizioni critiche a causa di un profondo trauma cranico ieri sera in una traversa di via 24 maggio come vedete dalle immagini l'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto un'auto che lo ha investito la donna alla guida della vettura si è fermata per prestare i primi soccorsi intanto i passanti hanno allertato il 118 sul posto è prontamente giunta un'ambulanza di Isernia soccorso che ha trasportato con la massima urgenza l'ottantenne un noto commerciante isernino al pronto soccorso del veneziano i medici si sono subito resi conto della gravità della situazione hanno disposto il trasferimento al neuromed dove l'uomo è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva un'altra accusa pesantissima per Gianluigi Torzi finito questa volta nei radar della guardia di finanza di Campobasso per bancarutta fraudolenta il riciclaggio per oltre un milione di euro ancora guai dunque per il broker molisano in passato socio dell'ex governatore Paolo Di Laura Frattura e al centro dello scandalo degli immobili in Vaticano i finanzieri coordinati dalla procura di Larino hanno concluso le indagini accertando condotte distrattive di denaro attraverso una società che opera nel settore dei fertilizzanti facente capo a proprio attorsi i risultati ottenuti come evidenziano gli investigatori testimoniano una casistica variegata di condotte fraudolente sono stati il frutto di un attento approfondimento delle posizioni dei soggetti sia persone fisiche che giuridiche e ora torniamo in provincia di Isernia in particolar modo a Castelpetroso dove è stata scoperta e sequestrata un'officina meccanica abusiva sversava rifiuti speciali nelle fognature il personale della squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale di Isernia ha proceduto appunto al sequestro dell'officina del locale che svolgeva attività di riparazione di macchine agricole abusivamente tutta l'attrezzatura era tenuta all'interno di un container mentre l'attività di riparazione veniva svolta direttamente nel piazzale situato sul retro della rivendita l'intera area è stata sequestrata ed il titolare è un 50enne di circa un uomo scusatemi di circa 50 anni residente in provincia deferito alla procura della Repubblica di Isernia per reati ambientali ugualmente è stato sottoposto a sequestro del container contenente l'attrezzatura utilizzata per l'attività destinata alla confisca al titolare è stata combinata anche una sanzione amministrativa di 5.000 euro 5 le persone sanzionate per aver violato le limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19 2 quelle segnalate questo è il bilancio dei carabinieri di Isernia nelle ultime ore nello specifico due persone sono state sorprese durante il coprifuoco a bordo di un'auto dopo che avevano cercato di cambiare strada per evitare le verifiche due nella circostanza hanno rappresentato una serie di ingiustificate motivazioni nessuna delle quali rientranti in quelle che permettono la presenza all'esterno dell'abitazione dopo le 22 bambini in classe col cappotto nella scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco a Isernia ubicata nell'area PIP di Miranda in un immobile industriale di proprietà della famiglia calabrese il freddo della notte ha provocato la rottura di un tubo che ha mandato in tilt l'impianto di riscaldamento da questa mattina il preside Giuseppe Posillico ed il proprietario dell'immobile sono al lavoro per superare il problema di non facile soluzione considerata l'elevata tecnologia che gestisce la caldaia se il problema non si dovesse risolvere nel volgere di poche ore il dirigente scolastico chiederà al sindaco di Isernia di emettere un'ordinanza in cui si dispone la chiusura della scuola fino al superamento della criticità i bambini che frequentano la materna da Calabrese sono circa 250 al via Molise Art nuovo polo tecnologico del gemelli Molise per la lotta al cancro ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione c'eravamo anche noi tutti particolari nel servizio l'acronimo Art sta per Advanced Radiation Therapy ed è in grado di offrire trattamenti all'avanguardia in radioterapia oncologica e accogliere i pazienti tra arte e innovazione tecnologica reparto diretto dal professor Francesco Deodato che sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del gemelli Art di Roma alla tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto ha dichiarato Vincenzo Valentini presidente di gemelli Art e ordinario di radiologia all'Università Cattolica collegatosi da remoto il nuovo centro è il frutto di una importante ristrutturazione che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti nuovi ambulatori e aree tecniche nell'ottica di una umanizzazione delle terapie inauguriamo il nuovo reparto di radioterapia nuovo per un aggiornamento della tecnologia e per un aggiornamento dell'accoglienza che sono due elementi per noi cardine del come accogliere in questo viaggio i nostri pazienti è un viaggio sia diciamo metaforico ma anche che si esprime tramite questo percorso di fotografie della regione molise che ricordano un po' il viaggio della transumanza che è un viaggio faticoso ma che si fonda sui valori dell'accoglienza e del ristoro già attivo da circa 20 anni è l'unico centro del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter soffrire della radioterapia fondamentale nei trattamenti oncologici un'eccellenza da difendere attrattiva per pazienti di fuori regione così il presidente Donato Toma che si commuove ricordando l'umanità del personale in occasione di un intervento subito molti anni fa voi avete reso questo luogo una casa la natura dà speranza le parole dell'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Maria Bregantini con Moliseart è stato totalmente rinnovato il parco tecnologico una nuova TAC introdotti nuovi sistemi di pianificazione del trattamento radiante con sofisticati algoritmi di calcolo sono acceleratori di ultima generazione sono capaci di permettere di andare a verificare prima di fare il trattamento se il paziente è posizionato in maniera esattamente uguale a quando ha fatto la TAC di centratura e poi ci permette di eventualmente correggere eventuali spostamenti millimetrici grazie a deltini robotizzati che vanno a correggere sia mediante spostamenti traslazionali sia rotazionali eventuali imperfezioni del posizionamento inoltre poi invece l'esecuzione del trattamento è garantita dal fatto che abbiamo dei sistemi di collimazione che sono millimetrici quindi andiamo a focalizzare esattamente là dove dobbiamo colpire risparmiando quelli che sono gli organi a rischio questo ci permette di utilizzare le più moderne tecnologie di radioterapia le più moderne tecniche di radioterapia tecniche che abbiamo anche in realtà utilizzato negli anni precedenti e che abbiamo anche introdotto alcune volte anche delle prime in Italia come per esempio i trattamenti serotassici c'è sacranici trattamenti intensità modulata questo centro è stato il primo centro a utilizzare la Vimat c'è la modulazione intensità volumetrica però con ovviamente macchine molto più performanti che ci permettono di essere più veloci nel trattamento e ancora più precisi Aida Romagnolo passa ufficialmente a Fratelli d'Italia la decisione sarà ufficializzata domani nel corso di una conferenza stampa soddisfatto Michele Iori artefice di questo passaggio Aida saprà dare freschezza ad una politica molisana ormai stantia potrà e saprà essere elemento prezioso per l'attività politica del partito sul territorio ed il comune di Sernia nella persona dell'assessore alle attività produttive Linda Dall'Olio ricorda che sono in scadenza le domande per la richiesta di concessione di Deor sul suolo pubblico relativamente all'anno 2021 come prevede infatti il regolamento comunale vigente tutti coloro che vorranno fare richiesta di Deor per il prossimo anno dovranno far pervenire la domanda compilata entro il 30 novembre del 2020 coloro che fino ad oggi hanno fruito della concessione hanno già ricevuto comunicazione tramite PEC nelle scorse settimane il regolamento e i relativi moduli di domanda sono reperibili sul sito dell'ente e presso lo sportello su app del comune inoltre l'assessore alle attività produttive dall'olio ricorda che con deliberazione di giunta dell'8 ottobre scorso è stata disposta la proroga dell'esenzione della TOSAP fino al 31 dicembre 2020 al fine di agevolare gli esercenti in questo difficile momento di pandemia bene ora vediamo che tempo farà domani sulle Molise con il nostro meteo previsioni del tempo di mercoledì 25 novembre infiltrazioni umide raggiungono il sud-est determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota salvo piovaschi sulla zona di Termoli venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali mare mosso ecco le temperature sui maggiori centri della regione Campobasso minima 6 massima 11 gradi Isernia 7,13 Termoli 7,14 Venafro 8,14 Davvero tutto per questa edizione l'informazione torna questa sera alle 19.30 in diretta con la collega Valentina Cirlante ora linea alla regia tra pochissimo c'è la pagina sportiva c'è la Serie D con il Campobasso e l'Olimpia agnonese ma parleremo anche di calcio d'eccellenza e di basket di Serie A1 femminile a tra poco Lo sport il calcio di Serie D è ufficiale è stata rinviata la gara in programma domenica tra il Campobasso e l'Albalonga gara che si sarebbe disputata nel Lazio e gara di recupero della giornata di campionato che non si è giocata a causa del Covid-19 dunque è stata rinviata perché? perché nella rosa-rosso-blu ci sono diversi giocatori positivi rosa che è attualmente ancora ferma e ancora non riprende l'attività agonistica in presenza i giocatori del Campobasso sono in attesa dell'esito del tampone di controllo che è stato affettuato nei giorni scorsi dunque bisogna attendere per rivedere il Campobasso in campo si gode invece la prestazione e il punto conquistato all'Aragona di Vasto è il tecnico dell'Olimpia agnonese Stefano Senigayesi allora sentite cosa ha detto ai nostri microfoni al termine del match di domenica scorsa muove la classifica muove il morale stiamo crescendo penso che si vede in maniera fin troppo vistosa abbiamo giocato contro un avversario di grandissimo spessore in un campo storico e difficile prendiamo con grande soddisfazione un punto perché siamo sicuri che chi verrà qui farà molta fatica a portare via qualcosa un avversario di altissimo livello poi un triangolo chiamiamolo così offensivo Bodo Calabrese l'altro ragazzo che non ricordo il nome mai veramente bravi 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 perché riescono a tenere la palla davanti a creare e soprattutto a permettere all'avversario di guadagnare spazio e di riversarsi comunque con tanti giocatori all'interno della metà campo non era facile però c'è soddisfazione perché adesso ci sentiamo in grado di poter giocare in questo campionato magari ancora non ad armi pari però siamo cresciuti molto ora siamo al basket basket femminile di serie A archiviata la sconfitta contro la Virtus Bologna Elisa Mancinelli guardia del Campobassane è già con la testa alla prossima sfida in casa del sesto San Giovanni l'ha intervistata per noi Franco Presutti sentite ecco Elisa ovviamente si sapeva la forza dell'avversario comunque non avevate tante rotazioni e quindi ecco c'erano gli ingredienti correggimi se sbaglio è stata una mia impressione insomma da spettatore di solito sai uno quando non ha niente da perdere gioca con maggiore tranquillità sbaglio o all'inizio eravate un po' tese ma in realtà non saprei definirci nel senso la forza di questa squadra di Bologna cioè non è una novità abbiamo visto una partita contro Schio dove se se la sono giocate anzi sono state in vantaggio tutta la partita per poi per un tiro sfortunato di battisodo al supplementare hanno perso però comunque sono una grande squadra te l'ho chiesto perché ho visto che soprattutto alle conclusioni eravate un po' tese e non tranquille forse un po' timorose della forza delle avversarie secondo me più riguardo noi cioè noi in squadra sapevamo di essere in difficoltà sapevamo che delle compagni sarebbero sacrificare in un ruolo che non è il loro abbiamo dovuto riformulare cambiare la strategia e quindi forse più questo più che l'avversario che ovviamente cioè con tutto il rispetto nel senso è un'ottima squadra quindi magari forse un po' anche quello ha influito avete sei punti in classifica dicevi prima ora ci tocca affrontare avversarie di tutto rispetto però non dimentichiamoci che insomma avete già affrontato squadre molto forti quindi nelle prossime gare ci saranno anche avversarie sicuramente alla vostra portata beh sì io penso che in primis quello che ci preme è tornare al completo tornare ad allenarci a prescindere dall'avversario in settimana essendo quasi complete stiamo recuperando le altre ragazze l'infortunio della lunga l'Iskens ha avuto il suo peso quindi più che focalizzarci nelle altre squadre che sicuramente ce la dovremmo giocare dovremmo iniziare con il piede giusto dobbiamo focalizzarci sulle nostre cose sulla nostra entità di squadra che è poi quella che ci porterà avanti un'ultimissima cosa che riguarda purtroppo è un problema oggettivo le assenze questo vi condiziona anche negli allenamenti beh sicuramente un po' sì però non abbiamo risentito molto nel senso la società ha sempre fatto in modo di fare il possibile per metterci in condizioni di allenarci bene si sono aggregate con noi delle ragazzine molto piccole mi sembra 2006 che si stanno impegnando molto e ci permettono di allenarci in 10 12 blanca che ad oggi ancora non può giocare quindi sicuramente un po' si sono sentite però dall'altro lato siamo sempre riusciti ad allenarci agonisticamente ecco continua il nostro viaggio nel torneo di eccellenza oggi ascoltiamo l'opinione del tecnico del guionese Michele D'Ambrosio la stagione dice non doveva iniziare lo ha intervistato per noi Vincenzo Ciccone sentite non dovevamo neanche partire per tutte le vicissitudini tutte le problematiche che bene sappiamo tutti quindi dovevamo secondo me avere un quadro molto ma molto più ampio per far sì per per non far succedere tutto ciò quindi abbiamo avuto secondo me troppa fretta per far ripartire i campionati regionali da parte nostra sicuramente siamo partiti leggermente in ritardo con mille difficoltà anche perché da noi avevamo anzi abbiamo ancora il problema del campo quindi noi a livello logistico abbiamo stiamo abbiamo avuto perlomeno in questi sei in queste in questo ultimo periodo abbiamo avuto dei problemi a livello logistico quindi senza campo non ci mancava a casa nostra in pratica quindi abbiamo avuto delle delle difficoltà nel spostarci nel giocare e chiedere i campi per farci giocare un po' a rotello un po' a guardafieri quindi non avevamo il campo dove allenarci perché stanno facendo ancora dei lavori quindi abbiamo avuto cioè stiamo avendo questo tipo di problema eravamo ancora in fase di allestimento della rosa ancora perché qualcosina ci mancava però purtroppo poi ci hanno bloccati e quindi niente aspettiamo l'evolversi e dopodiché vediamo il da farsi con la speranza che nel frattempo mettono a posto anche l'impianto sportivo a Cuglionese anche io per esempio con il mio prof ci stiamo organizzando con i lavori individuali mandando settimanalmente dei programmi quotidiani quindi sperando come ha detto anche Carmelo perché comunque c'è gente che lavora magari a fine giornata riesce a fare almeno quel programmino che riusciamo a mandarlo ma io mi auguro soprattutto una cosa per quanto riguarda in prospettiva che è il momento in cui ci diranno l'ok per rigiocare almeno che ci diano il tempo materiale per fare almeno non dico un paio di settimane ma almeno qualche giorno per prepararci a livello di gruppo di fare degli allenamenti altrimenti diventa incontrollabile la situazione ecco questo mi sembra di dire io sono del parere che se a momenti in cui bisogna ripartire bisogna terminare cercare di far terminare completamente del tutto altrimenti è meglio non partire non ha senso anche adesso al di là delle cose che dicono in giro se Maggiro è andata Coppa Italia eliminiamo facciamo questo se si riparte o si riparte in pieno o non si riparte per niente bene è tutto con la pagina sportiva grazie per averci scelto e buona continuazione con la nostra informazione arrivederci a